Le uova meritano un posto speciale sul nostro piatto, non solo a causa del loro gusto e della loro versatilità, ma perché hanno un profilo nutrizionale incredibilmente denso. Le persone in realtà troppo spesso cedono ai miti che coinvolgono le uova, in particolare il tuorlo dell'uovo, credendo che le uova facciano male alla loro salute. La verità è che le uova sono tra gli alimenti più nutrienti di questo pianeta, basti pensare che in un singolo uovo ci sono gli ingredienti necessari per sviluppare la vita. Nell'uovo sono infatti presenti preziose vitamine minerali e non dimentichiamo la caratteristica più importante delle uova, sono una delle migliori fonti di proteine del nostro pianeta e sono anche quella più economica. In più forniscono al tuo corpo l'intero pacchetto di aminoacidi necessari per la costruzione della massa muscolare e per la riparazione dei tessuti ed è anche per questo motivo che i maggiori esperti consigliano di mangiare due o tre uova intere al giorno per una dieta equilibrata. Mentre è vero che il tuorlo contiene un'elevata quantità di colesterolo, in realtà le cose sono un po più complesse di queste. In primo luogo non esiste nessuna correlazione tra mangiare uova regolarmente e malattie al cuore. In secondo luogo che cos'è il colesterolo? Il colesterolo è sempre stato dipinto come un aspetto negativo della nostra salute e del nostro organismo, in realtà è parte fondamentale delle nostre membrane cellulari ed è parte fondamentale per la produzione di ormoni importantissime per la nostra salute che ne permettono il normale funzionamento. Inoltre il colesterolo non solo lo prendiamo dagli alimenti che mangiamo ma è talmente importante per il nostro organismo che il nostro fegato lo produce. Quanto ne produce? Dipende. Se ne prendiamo tanto dagli alimenti che stiamo mangiando il nostro fegato ne produrrà di meno, se ne prendiamo poco da ciò che stiamo mangiando il nostro fegato inizierà a produrne di più, semplicemente perché indispensabile per le nostre funzioni. Questo significa che se ne mangiamo tanto degli alimenti, se ne mangiamo poco degli alimenti, il colesterolo totale poco cambia. Inoltre viene definito cattivo colesterolo quello LDL e buono colesterolo quello HDL. Il cattivo colesterolo effettivamente può andare a distruire le nostre arterie, potendo causare malattie al nostro cuore. Quello buono, quello HDL, va a rimuovere l'LDL dalle nostre arterie, lo porta al fegato e viene successivamente eliminato dal nostro corpo, andando quindi a proteggere la salute del nostro cuore. L'aspetto simpatico è che l'uovo è ricchissimo e prevalentemente composto da buono colesterolo, quello HDL, mentre al contrario il cibo spazzatura è composto prevalentemente da cattivo colesterolo, ldl. Quindi mangiare le uova regolarmente non solo porta aspetti benefici per la nostra salute, ma tende anche ad invertire quel processo negativo che deriva da mangiare cibo spazzatura. Perché? Perché ci aiuta a portare via il colesterolo, quello cattivo, dalle nostre arterie. Altri aspetti benefici delle uova proteggono la salute dalla nostra vista in quanto ne prevengono la degenerazione. Proteggono la salute delle nostre ossa in quanto il tuorlo dell'uovo è ricco di vitamina D e la vitamina D aiuta all'assorbimento del calcio che è fondamentale per la salute delle nostre ossa. Essendo abbastanza ricche di ferro aiutano nella lotta contro la carenza al ferro, causa di mal di testa, irritabilità e stanchezza. Ti aiutano nella gestione del tuo peso in quanto mangiare le uova aiuta più facilmente da raggiungere il senso di sazietà e a controllare l'appetito e ci aiutano a mantenere attivo e funzionante il nostro cervello in quanto i nutrienti che sono contenuti all'interno dell'uovo aiutano e supportano le funzioni del nostro cervello. Concludendo se le uova sono considerate tra gli alimenti perfetti come avete visto ci sono ottime ragioni. Quindi introdurre regolarmente all'interno della vostra alimentazione non solo è sicuro ma vi porta enormi benefici dal punto di vista dalla vostra salute.